L'INFA è una piattaforma territoriale di valorizzazione del territorio. È un progetto che nasce all'interno del programma Attivare, promosso da Fondazione Cariplo, ed in particolare all'interno del progetto Valli Resilienti. È un'applicazione informatica di vendita dei prodotti territoriali, dei servizi che il territorio ha da offrire sia ai cittadini sia alle aziende per progetti di welfare aziendale. L'INFA è una rete di postini che vengono a casa vostra, che vengono nella vostra azienda e vi portano a ciò che voi avete ordinato attraverso l'utilizzo dell'applicazione o nei Linfapoint. Allora, l'INFA funzionerà in questo modo. Applicazione informatica, fruibile da tutti i PC, da tutti i tablet e da tutti i nostri smartphone, con tutti i sistemi operativi possibili. Ci sarà una prima parte di registrazione. Il modo per registrarsi è semplicissimo, basta chiamare il nostro call center o andare direttamente sull'applicazione e inserire i propri dati anagrafici e un numero di telefono. A quel punto, una volta che si è registrati, si accede ai servizi e ai prodotti di l'INFA. Potrete comprare i servizi del territorio, piuttosto che i prodotti attraverso la spesa domiciliare. Con un semplice clic vi verranno, in questo caso, i prodotti divisi per categoria. Basta cliccare all'interno della categoria, scegliere il prodotto di cui si ha bisogno. Una volta scelto il nostro prodotto, lo aggiungiamo al carrello, definiamo la nostra quantità, andiamo al checkout, quindi all'acquisto e poi al pagamento. Ciao! Io lavoro a Fondo Valle, per cui sono sempre fuori casa, per cui avere un punto giacenza per i prodotti di cui ho bisogno è fondamentale. Per cui il punto l'INFA per me è negralgico. I linfapoint saranno dislocati su tutto il territorio, sia all'interno di punti di comunità, come le biblioteche, sia all'interno dei nostri negozi commerciali. Noi abbiamo messo insieme, messo in rete, quattro negozi di vicinato, in quattro comuni della Valle, un negozio Trevalli di Coglio, il negozio Terresapori di Livemmo, il Jolly Market a Idro e il negozio Medaglia Market di Marmentino. Siamo all'interno della biblioteca di Marcheno. Anche questo sarà uno dei linfapoint, all'interno dei quali si può accedere all'applicazione linfa, si possono ordinare i servizi dei prodotti del territorio, si può venire a ritirare ciò che si è ordinato attraverso l'applicazione e si può chiedere aiuto ai bibliotecari che saranno formati all'utilizzo di linfa. Linfa nasce dalla volontà di una cooperativa sociale di tipo B, che è Andropolis, che si occupa di inserimento lavorativo. Risponde ai bisogni delle persone che abitano qua tramite la messa in connessione di servizi, ad esempio aiuto compiti, piuttosto che visite domiciliari, la consegna della spesa, la consegna dei farmaci, il disbrigo di commissioni, o direttamente a domicilio delle persone, oppure portando i prodotti nell'infa point, che diventano dei punti multifunzione, nei quali oltre ad entrare per prendere il pane la mattina, o per prendere il nostro formaggio nostrano, puoi ordinare l'ora di aiuto compiti per i tuoi figli, piuttosto che l'assistenza domiciliare per tuo papà o per tua mamma anziana, piuttosto che prenotare una delle numerose iniziative culturali, piuttosto che esperienziali, che ci sono nel nostro territorio e che verranno promosse anche dal progetto Valli Resilienti. Ritengo l'infa un ottimo servizio, veramente sono contentissima, perché prima diventavo matta, correndo su e giù per la valle, perdendo un sacco di tempo, invece finalmente posso fare i miei acquisti, comodamente seduta sul divano a casa, e la sera riesco anche a passare del tempo con mio marito, possiamo uscire perché con l'infa riesco anche a prenotare la babysitter. Noi abbiamo messo insieme, messo in rete, quattro negozi di vicinato. I negozi potranno diventare punto d'ordine di linfa, punto di giacenza dei prodotti di linfa, potranno diventare punto di ricarica del credito per poter acquistare su linfa applicazione, saranno dei punti all'interno dei quali ci si potrà iscrivere a linfa, diventeranno dei punti nei quali ci saranno tutte le informazioni turistiche anche legate al nostro circuito delle valli accoglienti e solidali, i negozi diventeranno veri e propri punti postali all'interno dei quali si potrà accedere a tutti i servizi e i prodotti del territorio. Ciao Chiara! Ciao Aurora! Tutto bene oggi? Sì, è arrivato il pacco per te. Fantastico! Grazie, buona giornata! Ciao, alla prossima! Sì, è arrivato il pacco per te. Sì, è arrivato il pacco per te. Ciao!